Buongiorno, oggi continuiamo a parlare di agricoltura perché il nostro progetto non prevede solamente quello di dare semplicemente dei finanziamenti a questo settore ma di sostenere tutta una micro filiera di micro imprese che riescono ad aumentare la superficie coltivabile della nostra terra e soprattutto ad incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro non solo quelli direttamente nell'agricoltura ma anche in tutta la filiera che ci gira attorno. Possiamo farlo con il tuo voto dal 25 settembre per portare a Roma l'Abruzzovero, quello degli abruzzesi.